amici di youtube ben ritrovati sul canale riparo file te oggi vedremo con questo piccolo trucchetto come verificare la funzionalità dei nostri telecomandi sono telecomandi che hanno una frequenza di 433 megahertz e sono un telecomando un radiocomando di un cancello che questo qui è un telecomando di un'autovettura che questo qui entrambi come vi dicevo lavorano su una frequenza di 433 media con cosa andremo a testare i nostri telecomandi li andremo a testare con un semplice diodo chiamato diodo al germanio che si trova in apparecchiature come le radio questo tipo di diodo riesce a captare le frequenze basse utilizzerò oltre al diodo anche il multimetro impostato sulla scala di mille volt come lo colleghiamo colleghiamo utilizzo due cavetti coccodrillo un estremità va a una parte del diodo l'altra all'altra parte del diodo verranno collegati ai puntali del multimetro eccolo qua il test è molto semplice davvero da effettuare andrò a prendere il telecomando lo avvicino al nostro diodo premendo il tasto il valore del multimetro salirà quando il valore del multimetro sale quindi premendo il tasto ci dà il valore significa che il telecomando funziona facciamo la prova avviciniamo il telecomando ecco qui come potete notare premendo il tasto il valore del multimetro sale fino a 15 o 40 millivolti poi dipende dal dalla frequenza e nel telecomando bene radiocomando del cancello come avete visto sale da 0 a 5 video molto utile semplice da effettuare se avete visto il video come sempre lasciate un like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video